De 141 soci del locale, ben 42 erano pregiudicati con alle spalle un curriculum criminale che va dalle lesioni personali e allo spaccio di sostanze stupefacenti, dai maltrattamenti in famiglia allo sfruttamento della prostituzione sino alla violenza sessuale. Per questo il questore di Arezzo Bruno Failla al termine di una lunga e complessa attività di indagine svolta dalla Polizia di Stato, assieme all'arma dei carabinieri della compagnia di Cortona ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande della Nuit, un noto circolo privato di Foiano della Chiana. Secondo quanto riscontrato, il circolo era infatti frequentato da numerosi pregiudicati per gravi reati. I militari inoltre nel corso dei controlli avevano accertato anche lo spaccio di sostanze stupefacenti che si sarebbe verificato all'interno del locale. L'ultimo episodio risale solamente pochi giorni fa quando i militari cortonesi avevano identificato due uomini all'interno di un'auto che con sé avevano un involucro di cellofan contenente cocaina. Messi alle strette avevano riferito di farne uso saltuario ed averla acquistata all'interno del locale da uno degli avventori, del quale però non sapevano il nome, da qui la richiesta di sospensione e il conseguente provvedimento del questore di Arezzo per motivi di ordine e sicurezza pubblica.